Buonasera a tutti e ben ritornati ad una nuova puntata del TG di AC Milan Inside. Stasera partiremo subito dalle prime parole dell'intervista del nuovo tecnico rossonero Paolo Fonseca. Il nuovo allenatore portoghese non vuole soltanto vincere con la sua nuova squadra, ma vuole anche portare spettacolo e quindi appassionare i tifosi. Il suo modo di pensare, infatti, è avere il coraggio di essere diversi. Parlando invece del giovane talento Francesco Camarda, arriva la convocazione per l'Europeo Under-19. Trattando l'argomento invece calcio-mercato, oltre ad Alvaro Morata spunta una nuova indiscrezione. Milan, infatti, in cerca di nuovi attaccanti, si interessa anche al nome di Karim Adeyemi, il giovane talento tedesco del Borussia Dortmund. Un altro profilo associato al calcio-mercato rossonero è quello di Memphis Depay. L'attaccante olandese, infatti, potrebbe arrivare a parametro zero. Arriva, infine, la prima proposta ufficiale per il difensore Fofanà del Bayern Monaco. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto di 4-5 anni a 3 milioni e mezzo stagione. Anche per stasera le notizie sono terminate e, oltre a invitarvi a seguirci su tutti i nostri social, vi invito anche a seguire i nostri giocatori all'Euro 2024. Alla prossima!